A parte che mi sto facendo coccolare dopo non so quanto tempo, quindi sono qui con Francesco di GHG che mi sta facendo provare un nuovo tool, la Blow Dry, è un tool 2 in 1 che praticamente asciuga e mette in piega i capelli creando questo effetto voluminoso che poi vi farò vedere alla fine, meraviglioso, che va tra l'altro tantissimo di moda. Quindi sarà anche la prima volta in cui mi vedrò con la franza e i capelli più voluminosi. Rosalinda Cannavò, dopo aver trascorso alcuni giorni a casa con la piccola Camilla, dedicandosi all'allattamento e alle prime cure materne, ha deciso di concedersi un momento per sé. Dopo le intense emozioni del parto e i primi giorni di adattamento, ha scelto di chiamare un parrucchiere a domicilio per rinnovare il suo look. L'esperto ha portato con sé un nuovo attrezzo innovativo per la messa in piega, con il quale ha realizzato una frangia perfetta sui suoi capelli lisci. Rosalinda, sempre attenta al suo stile, ha voluto prendersi questo piccolo lusso per sentirsi di nuovo in forma, dimostrando come sia importante per una neomamma ritagliarsi del tempo per sé stessa. Nel frattempo, la piccola Camilla cresce vista d'occhio, mostrando segni di adattamento alla sua nuova vita in famiglia. Anche il cagnolino di casa, pur manifestando un po' di gelosia per l'arrivo del nuovo membro, si sta abituando alla presenza della neonata. Tutto rientra nella normalità di un nuovo equilibrio familiare che si sta formando con amore e pazienza. La maternità si sta rivelando un viaggio speciale per Rosalinda, che riesce a bilanciare i nuovi impegni con un pizzico di cura personale. Grazie a tutti.